le cronache ci dicono che è in corso una polemica tra i conduttori di sinistra della il paradosso è stato questo che dopo l'annuncio del passaggio di pazio alla televisione 9 e il corredo di tutti le lamentazioni diciamo così da parte dei giornali e dei amici di pazio ci sia stata un'intervista di santoro che ha in qualche modo ricollocato la storia in termini completamente diversi nel senso che santoro ha dimostrato che come non ci sia stata nessuna nessun atto persecutorio o nessun martirio da parte di di fazio né di lucia annunziata ma al contrario addirittura ci sarebbe stata una connivenza dei due con il sistema di lottizzazione della rai da sempre e anche a scapito di voci dissidenti come appunto sarebbe stata la sua di santoro ecco il paradosso è stato quello di vedere interpretata la polemica di santoro come un fattore soltanto di come l'hanno definita di acrimonia nei confronti tra congiuntori che sarebbero in qualche modo pazzo tra di loro in realtà c'è di c'è di più questo con l'idea che il sistema pubblico e naturalmente è proprio con consustanziale a un a un modo di gestione che è di stampo fazioso e parziale ecco in che modo tutta questa vicenda che ha assunto quasi degli aspetti tra il paradossale e il patetico può essere indicata come un una cartina di torna solo di quello che è stato il rapporto tra la rai e il sistema partitocratico del passato ma anche di adesso e come questa vicenda testimoni anche il processo di manipolazione di manipolazione che avviene anche intorno alle questioni cruciali della democrazia perché è chiaro che pensare che la democrazia sia in soltanto perché fazio passa da una televisione all'altra significa manipolare il problema e presentare un rischio che effettivamente c'è c'è sempre stato nella democrazia italiana per le sue caratteristiche anomale con qualcosa che ci devia dall'attenzione sul problema e ci fa interessare a questioni che sono addirittura di stampo personalistico sarebbe faticoso interpretare quello che sta accadendo in rai se non lo inquadriamo in quello che tu stessi hai chiamato essere stato leggemonia culturale e il modello anche di democrazia fittizia che si è instaurato nel nostro paese è indubbio che le affermazioni che noi nel tempo abbiamo usato di essere viale mazzini di essere la rai la segreteria politica del potere nel passato della partitocrazia oggi diciamo del dei clan corporativi che accompagnano il sistema ma poi anche inquadrato in quelli che sono i meccanismi tecnici entro cui si consuma la rappresentazione dell'informazione perché poi dietro a questa rappresentazione ci sono interessi economici cospicui ci sono agenti che lavorano molto intensamente ma lo scenario parte da una premessa precisa e cioè che il sistema informativo del servizio pubblico partiamo da lì perché poi il servizio pubblico evidentemente è sforato nel trasferimento di molti attori e con essi degli agenti che li supportano sul piano anche delle delle trattative che sono nello schema della democrazia legittime ma che invece si configurano in termini di veri e propri clan e questo scenario fa parte proprio del modello entro cui si è instaurato un regime di vera e propria egemonia culturale al prezzo di un vero e proprio ammazzamento ma in questo caso come dice santoro l'ammazzamento a cui lui si riferisce è l'ammazzamento della guerriglia interna al clan di cui culturalmente lui faceva parte viceversa il ragionamento che noi cerchiamo di definire è che ci sia stato un vero e proprio genocidio culturale di quelle culture che non sono nate dentro lo schema del compromesso che in qualche misura disegna un po la mappa del sistema di potere nel nostro paese nello scenario anche storico politico di un paese sostanzialmente subalterno priva di diciamo sovranità e di conseguenza l'immissione dei ritmi diciamo così anche della competizione in realtà è reso monco proprio dalla premessa e cioè che in quella premessa sono stati ammazzati questi sì tutti gli altri filoni culturali potremmo fare molti esempi il lavoro che abbiamo sviluppato per esempio sul sugli scenari referendari erano lavori culturali e politici che incidevano nello schema della diciamo formula costituzionale del referendum obbligativo ma il carattere disinformativo aveva come presupposto il fatto di impedire al cittadino di essere protagonista delle scelte e quindi di conseguenza dentro a quella scenografia si consumava quello che tu hai appunto definito lo scenario delle occupazioni mano militari che prendono anche caratteri paradossali perché poi in queste ore cosa cosa veniamo a constatare che c'è chi assume una posizione critica come fa la lucia annunziata essendo stata già presidente e presidente della rai del modello culturale che si è definito per cui non vale neanche la pena approfondire il fatto che poi la signora annunziata era la presidente della rai con al governo berlusconi e quindi parte di un compromesso quindi bisognava entrare in quel sistema berlusconi non ha per la tv privata come una formula di allargamento del pluralismo la inserisce nel contesto di un entrismo per cercare di acquisire anche lui uno spazio per la sua tv privata e molti degli attori si trasferiscono ma lo scenario resta fissato dentro il perimetro proprio di un quadro culturale nel quale si è consumato il genocidio di tutte le altre culture perché in quel momento bisognava impedire che il cittadino pigliasse coscienza che attraverso il referendum poteva incidere proprio sugli equilibri del potere e quindi costruire un dato di dialettica democratica questo si è reale nell'ambito dell'alveo che la costituzione aveva fissato ecco quindi lo strumento referendario era l'intuizione di inserire una linea diretta che non va a inficiare il diciamo legittimo scenario del legislativo dell'azione di governo ma in realtà ridà voce ad un cittadino che è stato marginalizzato e caricato soltanto dei termini e dei conflitti che le elite di potere consumavano al loro interno quindi oserei dire che soltanto inquadrando la scenografia storica di quello che è stato il servizio pubblico del regime partitocratico e poi del regime delle corporazioni una volta che i partiti sono schiantati nel delirio della loro onnipotenza e della loro onnioccupazione siamo di fronte ad una situazione che fotografa grazie a questa incrinatura che si è formulata all'interno di quello che tu hai chiamato le polemiche tra i conduttori della sinistra in realtà la sinistra non è la sinistra è il mondo post comunista è il mondo di quella sinistra che al suo interno ha fatto un altro omicidio quello che non avendo risolto la questione liberale ha operato formule di vero e proprio massacro di tutte le culture laiche liberali socialiste libertari si potrà dire ma in fondo anche il modello socialista ha partecipato è assolutamente vero ma dentro un meccanismo di minoranza il problema è che il paese non ha mai respirato il carattere di quello che è lo scontro il conflitto democratico consumato nell'alvio delle regole dello stato di diritto e dello stato democratico e qui che naturalmente emergono e noi ne faremo uso in questa riflessione le contraddizioni abbastanza evidenti per cui assumono un carattere direi quasi rivelatorio però anche noioso perché tu hai accennato al conflitto che si è formulato tra santoro che rivela una spaccatura con la mosca cocchiera floris che lo interroga e contemporaneamente la presunta forma di difesa dei diritti democratici espressi da fazio e dall'annunziata che in realtà sono due tasselli di un sistema di potere culturale l'una con una formula di pienezza maggiore sul piano della diciamo cultura comunista marxista l'altro con il piano più speculativo del soggetto della crescita sul piano del suo rendimento sul piano televisivo e quindi dei ritorni economici che il suo agente gli procurava volta a volta e che adesso ha consumato anche in questa occasione un'opportunità di guadagnare di più per cui il racconto che fa santoro circa il fatto che che fazio esce dalla rai va a quello che era l'antefatto della sette e poi questo che era appunto legata telecom che poi non parte riceve però anche una barca risolta perché rientra e come rientra rientra perché evidentemente la scenografia e la lamentela legittima anche di santoro che qualche cosa in fondo poi ha realizzato io non la condividevo per niente ma diciamo così il modello televisivo del di santoro è un modello che poi ha fatto scuola e che in qualche misura innestava condizioni di apprezzione rispetto ai temi che erano tutti unidirezionali ma che comunque avevano la caratteristica anche di corrispondere a un certo a un certo approccio in fondo l'idea qui non c'è lo stato le samarcanda tutte le trasmissioni che lui ha fatto in quale direzione andavano andavano in una direzione di erano l'antefatto culturale del populismo del qualunquismo erano diciamo così però erano costruite dentro una scenografia che era che era ben chiara gli altri sono tutti costruiti all'interno di questo alveo che però ha una premessa culturale chiara e cioè il modello del compromesso entro cui si è formato la che poi ha avuto le sue radicalizzazioni terribili fino ad arrivare agli aspetti anche terrificanti del delitto moro dell'antagonismo al compromesso storico erano tutte dinamiche che si scatenavano dentro un fatto che escludevano la partecipazione diretta il sistema televisivo dell'area perché la chiamiamo alla segreteria politica del regime partitocratico prima e oggi come diciamo erede del delle corporazioni che il regime partitocratico ci ha lasciato come pegno deteriore della sua perversione è quello appunto che prevede che la dialettica democratica si consumi all'interno di un unico binario di una azione unidirezionale che in qualche modo aveva come presupposto le camerille che sono un po tipiche del diciamo di quello che sciascia ci raccontava nella certose di parma e cioè dentro alla alla certose dentro al clan del palazzo e non dentro all'alvio se vuoi anche drammatico della vita collettiva dei filoni culturali che la possono nutrire filoni culturali che sono stati nel tempo sistematicamente massacrati e fatti fuori perché avevano un'unica prospettiva rischiosa per l'elitto dominante cioè quella di inserire una livello di partecipazione che rompesse le dinamiche e le camerille appunto del del clan di potere che la certosa di parma ci fotografava in modo chiaro ecco è proprio questo che va evidenziato il fatto che tutto il sistema informativo e dobbiamo dire sia quello pubblico sia quello privato di fatto hanno agito nel senso dell'esclusione di una visione alternativa perché questo è stato e cosa ha fatto cosa come opera come hanno operato i soggetti dell'informazione hanno operato nel senso del continuismo di regime che noi abbiamo sempre descritto nell'ambito di quella definizione che abbiamo detto di democrazia fittizia che ha caratterizzato l'anomalia italiana ecco proprio in riferimento anche ai fatti recenti è evidente come il proprio questi che oggi si presentano come i martiri della democrazia in realtà sono stati i soggetti che hanno in qualche modo impedito l'allargamento della democrazia alla democrazia partecipata alla democrazia referendaria il caso della luciana litizzetto che interviene alla vigilia del referendum sulla giustizia e dice non andate a votare perché sono cazzate e il evidente come non solo non sono i soggetti della a difesa della democrazia ma sono coloro che impediscono che la democrazia possa evolvere e diventare una democrazia compiuta e partecipata con i cittadini che sono soggetti responsabili e diretti delle loro scelte ecco è questo che bisognerebbe che si ricordasse cioè nel senso tutte questi i soggetti informativi che hanno operato sia nel nella sistema pubblico sia nel sistema privato si sono adeguati i reggimentati hanno la divisa vera e propria dei difensori del continuismo e del potere consolidato così com'è che non deve essere ma non intaccato né deve subire alcuna modifica in questo sono i soggetti della conservazione della restaurazione il problema è ancora più preciso tu hai fatto riferimento al privato io l'ho accennato è evidente che il privato nasce nell'alvio culturale di questa diciamo di questo schema che nasce nella democrazia fittizia del dopoguerra c'è uno schema di un paese quindi un paese su quale c'è uno schema di disprezzo il popolo bue pericoloso che insegue ogni che può essere anche una verità storica noi abbiamo reiterato questo meccanismo per cui abbiamo lasciato sì che i caratteri propri di quello che noi chiamiamo il dramma democratico il dramma democratico è un un conflitto che si produce nel rapporto tra cittadini cittadini cittadine istituzione confronto dialettico e lo sforzo è quello appunto di collocare questo conflitto nell'alvio del del dibattito democratico nell'alvio delle regole del gioco cosa che questo sistema di potere non si poteva permettere perché perché ha fatto man bassa anche dello stato di diritto anzi non ha mai applicato la cultura dello stato di diritto e lo stato di diritto era il vero problema che andava fissato quindi si è costruito il mostro della democrazia fittizia nella quale nella quale volta a volta ci si determinano le occasioni le opportunità con con le quali con le quali si creano i falsi conflitti le false polemiche è evidente che può apparire faticoso spiegare come paradossalmente santoro ha ragione ma clamorosamente torto santora ragione perché racconta la storia del clan dei clan che hanno formato la griglia dei diciamo dei protagonisti del sistema televisivo nel quale poi ci sono inserite anche i caratteri delle modernità gli agenti e le funzioni si paga per ottenere una possibilità di ingresso un esempio specifico di questa cosa il sistema informativo chiamiamo quello pubblico sul quale definiamo la responsabilità per quanto ci riguarda maggiore nella logica della democrazia partecipata il sistema pubblico perché abbiamo già detto quello privato potrebbe ascrivere a sé il proprio diritto di essere privato ma di conseguenza però è già influenzato molti dei soggetti che nascono nella tv pubblica e diventano poi protagonisti della tv privata nelle dinamiche con cui le cose si sviluppano ma quello che è estremamente curioso e interessante è che nell'ambito del confronto che c'è si ragiona di quelli che sono gli effetti di quello che già si è consolidato e cioè santoro giustamente parla di ammazzamento ma non è l'ammazzamento della democrazia è l'ammazzamento che si è realizzato all'interno del clan della certosa di parma per cui sono stati fottuti alcuni altri non sono stati fottuti taluni si sono inseriti per praticare la propria azione e hanno creato quindi quella promiscuità dentro il quale non c'è neanche il respiro che qualche volta diventa importante che è quello appunto che bagnandosi nel fiume del sociale reale del vissuto reale delle persone che partecipano smussano anche le dinamiche conflittuali all'inverso in un sistema etero diretto e piramidale il conflitto si scoscrive a poche ci sono alcuni che si sentono traditi ma lasciano per chi ha una cultura della democrazia ancorata allo stato di diritto e anche un un ingrediente che che non soddisfa nel modo più assoluto tu hai accennato alla litizzetto la litizzetto è letteralmente un residuo alogenico di questo sistema non ha neanche il perimetro culturale a cui puoi rimproverare alcun che l'oggetto era criminalizzare i referendum perché i referendum andavano a intaccare il potere inteso come dinamiche dei clan che con la fine dei partiti che erano comunque le centrali operative di questo sistema oramai avevano assunto una dimensione autonoma della gestione del potere il fatto è che lei ha prestato la sua opera a questo anche se non ha lo spessore culturale o l'interpretazione però si è prestata è stato lo strumento per realizzare non a caso la litizzetta stava lì non è che stava perché era divertente perché le sue battute ma non so chi possono divertire ma questa è un'opinione personale può essere anche definita non so se è una comica o altre cose resta il particolare che stava lì perché c'era il rischio che i referendum potessero allargare il perimetro eppure l'hanno allargato perché 10 milioni sono andati a votare 7 milioni hanno votato 5 sì nonostante la criminalizzazione fatta il che rende esplicito che noi siamo letteralmente occupati da una cultura di potere per cui l'idea di ampliare la diciamo sensibilizzazione al concetto che c'è l'occupazione dei fascisti della rai è una stronzata talmente talmente ignobile sul piano intellettuale che lascia il tempo che trova si tratta di persone che hanno sviluppato la propria azione nella coscienza di essere stati coprotagonisti se non i protagonisti primari dell'assassinio dei certi filoni culturali del genocidio culturale che è stato fatto e che in qualche misura in noi provocano indignazione ma nel resto del corpo collettivo del paese occupato mano militare da questa disinformazione reiterata lasciano anche qualche traccia di indifferenza che è la vera il vero background deteriore di un paese che non riesce ad assumere e a dare forma ad un'azione riformatrice perché è evidente che ci sono gli effetti derivati di queste di queste situazioni il signor florisi che è un altro residuo della storia di questa cultura che stava in rai poi è passato alla 7 la stessa storia per cui la 7 assorbe molti dei presunti dissidenti è evidente che a monti ci sono soggetti finanziari che hanno interesse a sviluppare un'azione che sia corruttiva rispetto all'opinione pubblica la quale da una parte è resa ignorante da un'altra parte è già il prodotto ignorante di quel sistema che è stato costruito e quindi di conseguenza assume questa questa definizione e abbiamo santoro che giustamente va a reclamare di dire ma scusatemi io sono stato fatto fuori perché nella logica che era proprio anche del cominform o meglio del del gruppo dirigente diciamo delle delle culture organizzative leniniste no c'è il trozzi che viene fatto fuori questo non cambia il concetto della della matrice etero diretta verticistica del modello culturale che veniva dal dal bolshevismo no abbiamo dentro questa cultura un meccanismo che che urla per essere stato colpito forse ingiustamente avendo avuto qualche merito in più nel prodotto di che cosa per il prodotto di che cosa delle premesse del qualunquismo nelle premesse della subcultura qualunquistica che spinge le persone ad essere sempre aizzate caricate in termini di indignazioni su cosa che non merito indignazione che vengono precluse alla percezione della profonda indignazione che bisognerebbe avere di fronte al vero e proprio massacro che viene fatto dei propri diritti e della propria identità della propria storia e questo è questo lo scenario noi siamo nel cuore degli ammorbamenti terrificanti che questo sistema diciamo di democrazia fittizia ha creato e quindi siamo di fronte una difficoltà oggettiva che in qualche modo rende ancora più necessaria un'azione di che non sia di mera testimonianza ma che sia che sia di politica è evidente che quando si fa una battaglia sui referendum sulla giustizia e la signora litizzetto interviene per fare le dichiarazioni che fa la signora litizzetta è un killer diciamo del del sistema ma senza neanche avere la coscienza che il suo impedire per carità è anche legittimo avere posizione contraria al referendum anzi bisognava sviluppare anche quel lavoro ma bisognava capire qual era l'oggetto del confronto e dello scontro che andava a implicare la formazione dei gruppi dirigenti gli interessi di potere le dinamiche con cui si formavano diciamo anche le scelte e dentro a questo scenario noi ci accorgiamo che siamo di fronte ad una in realtà immatura cioè l'Italia non è mai entrata dentro un processo di democrazia matura nella quale non sia che si escude il conflitto ma si è creata la precondizione per cui il conflitto si iscrive nella naturale dialettica democratica dello stato di diritto ma purtroppo qui per far memoria alla canzone di stefano rosso in voga negli anni settanta lo stato qui non c'è e quindi di conseguenza il problema resta intatto ma resta invece viva la esigenza di occupare anche un minimo d'attenzione nell'ambito di quelli che sono i conflitti che ci sono determinati allora santoro va da floris attacca annunziata tutti gli attori hanno livelli di responsabilità diverse alcuni sono anche legittimi come diciamo lamentele ma sono le lamentele di dei rappresentanti che hanno escluso parma dalla propria possibilità di essere partecipi della propria vita e si sono giusti nel castello della certosa nel quale esercito in loro i loro i loro riti anche omicidiarie di ammazzamento cercando volta a volta di coinvolgerci nella indignazione che dovremmo procurare per questi ammazzamenti noi possiamo anche dire che forse quell'ammazzamento c'è stato ma è l'ammazzamento fatto da coloro che hanno perso nello scontro della diciamo della realtà cioè della realtà che ha visto costoro protagonisti insieme del genocidio culturale di cui oggi raccogliamo gli esiti devastanti esattamente così e purtroppo dobbiamo fare i conti con questo direi di chiudere qui questo breve intervento e ci aggiorniamo entro chiamo